Quanti dati personali raccoglie la tua azienda ogni giorno? Sei sicuro di trattarli nel modo giusto, rispettando sempre la normativa sulla protezione dei dati personali? Forse tu non hai mai commesso errori, ma ti svelo un segreto. Il fattore di rischio più elevato è quello umano. La soluzione? Un piano di formazione per responsabilizzare i tuoi collaboratori ed evitare sanzioni e violazioni. Data Protection Training è il corso e-learning che puoi fare quando vuoi e dove vuoi. Che ti insegna i principi fondamentali e le competenze operative essenziali per gestire correttamente i dati personali. Quali sono i 5 ingredienti del nostro corso? Intuitività Videopillole super efficaci Flessibilità Disponibile quando vuoi Multilivello Basic o Advanced Accessibilità Segui da qualsiasi device o browser Dimostrabilità Test intermedi e test finale Che ti rilascia attestato di partecipazione e certificato di attendibilità. Sì, ma concretamente cosa impari? A trattare in maniera corretta e lecita i dati personali A gestire le violazioni sui dati personali A ridurre il rischio di sanzioni A gestire senza errori gli esercizi di un diritto da parte degli interessati A contribuire ad aumentare il livello di sicurezza in azienda Impara ora a trattare bene i dati personali Scegli Data Protection Training Grazie a tutti Grazie a tutti